Ciao a tutti amici bentornati su Bandengort, oggi si continua la nostra avventura in cui oggi si combatte contro un esercito, Dan Hannister che ha appena sconfitto uno dei nostri, esercito dei nostri Nintendo, e pertanto oggi si fa un po' di mattazza, capite? intanto Fairmarket come tenevo, nel senso diciamo buono, è stato preso dagli Stark e quindi quindi diciamo che c'è ben poco da dire preso quattro uomini bene una buona battaglia, abbiamo salvato un sacco dei nostri sono sempre i nostri comunque che muoiono eh, vengono presi, sono sempre i nostri dai che dici sai, qualcun altro, no no no, sempre i nostri perché devo io bestemmiare madonna ogni volta, ma l'importante è che ora sia tutto al posto, purtroppo questi soldati io non li posso prendere, mi piange veramente in cuore perché sono veramente buoni, soprattutto quegli immacolati, però vabbè ormai, ormai è andata, va bene così faccio un po' di soldini, comunque io piglio tutti questi soldi, ma è solo grazie a a King's Landing, altrimenti col cazzo creiamo tutta sta roba allora per me dovremmo andare ad assediare Riverrun per avere una testa di ponte da cui puoi assediare Castelganito e Nannisport non sarebbe male gli Stout hanno preso Fairmarket in Nord e Nannisport sono diventati ben forti tu c'hai sempre venti unità, è una cosa incredibile sono dieci anni dai su fa muc cazzo buca dice di no no è onesta togliamo il nemico prendiamo tutti cibo ok andiamo a Stone Edge allora se è così siamo 550 penso che con questi la prendiamo Riverrun abbastanza tranquillamente siamo messi abbastanza no ho sbagliato siamo messi abbastanza bene avevo fatto mai vedere sto vestito mi ricordo no è sanguipot attacchiamo se faccio Sand Troops potrei rischiare di perdere troppi uomini in Utilmen abbiamo bisogno di essere abbastanza in forza per poter poi prendere Riverrun e Riverrun e Riverrun dove è il nemico e Riverrun serve tanto serve per far si che gli Stannis Baratron non abbiano più niente dai su dai su tutti si 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 ok una battaglia veloce perfetto ottimo vediamoci tutto da mezzo questi stronzi ma buona ma buona ma tu prigioniero tu prigioniero tu prigioniero voi siete dentro e merda pertanto ho ritratto come tal lui invece ma buona niente oh basta fottare queste unici diametre Gregor Clegan tu che vuoi? tu devi morire no 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 tu 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 devi morire non mi interessa non mi interessa tu Oh scappa sempre sto stronzo Non c'è verso Madonna quanta gente Eh ragazzi E che ve lo dico a fa Battaglie su battaglie su battaglie Questa è importantissima Qua noi gli Qua noi Semplicemente Vabbè aiutiamo Gli Stark Però a nostro vantaggio Perché non potranno più tornare a Riverland Io mi tolgo un buon 300-400 uomini a difesa E quindi Credo che sia veramente buono Stanno entrando nell'imbuto Addio Perfetto Bene Bene Vabbè mi fatti diventi un po' i nostri soldati Va benissimo Va benissimo Va benissimo Va bene così Va benissimo così Ciao Chi sei tu? Tomman Madonna quanto sei inutile Tu chi cazzo sei? Sì sì Va bene Ok Ottimo Abbiamo preso Nemico In un momento di Momenti in cui erano anche disorganizzati Quindi è perfetto Molto bene Io direi Attendiamo qua L'arrivo di Degli altri due E nel mente Dai su Arrenditi Piagere Ah vuoi fare il due Madonna Siete in 25 Senti dai Non rendere cose difficili Grazie Dai dai Su 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 Tu Bene Non ce l'avevi in cazzo Non ce l'avevi Ma va Ma Nasconditi Ma vuoi? Vabbè Vesige down Sei giorni di cibo Mille uomini in più di voi Già hanno tutta sta roba Che? Confederation of Pike of Night's Watch Non credo di aver Tu chi sei? Non credo di aver compreso Benissimissimo Oh cazzo Vediamo se cade Una Garrison Cosa che spero Perché mi sto rompendo il cazzo Ma perché non cade Una Garrison Non cade Ho parlato No Non cade una Garrison È una cosa assurda Una Garrison non cade mai? Che ma fa? Vabbè sentite Mi sono tutti i guglioni Chi posso portare con me? Tu Va bene Signori Salviamo Uno dei Tart Sta per essere sconfitto Da dei pirati Questo lo dice lunga Attacchiamo Attacchiamo Va bene così Va bene così Delle prime luci Delle luce 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 Non lo so Lo scoprirò adesso Ah Va bene Tu vai qua Tu vai qua Tu vai qua Io non so Non so che armi avete Vedo Provo a capire Però per il momento Tutti voi Sono voi Sono Gli arcieri Si muovono Tutti Sgt Si muovono Si muovono Si muovono Se mi lascio qua Il drago Fa una straccia Però per forza Rimane sul drago Adesso Lo facciamo così Lo mando via Non è che il drago è fermo Andiamo da destra La quantità di fuoco Che c'è qua È in male Che poi S'ho fatto Che sono Se da fuoco Io Fate scherzi Follow me Perfetto, il nemico si è ritirato nella fortezza, sono rimasti in 68. Ok, allora noi adesso andiamo con i sonidi. Facciamo un attacco e facciamo così. Ci portiamo ai migliori. Ci portiamo soprattutto degli arcieri che devono fare un po' di esperienza sul campo. Tipo un po' di queste, un po' di queste. Voglio creare anche una da partire. Speriamo che non muoiano. E che abbia scelto bene, sinceramente. Oh! Perfetto. Avanziamo. Madonna. Moversi. 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 Aglio. Certo che Bung Bung Uccide uno qua dentro Non so se Ok Perfetto Io ho perso un soldato Un Dragonstone Archer Non mio Però comunque mi dà fastidio Signore Riverrun è nostra Ah è il prigioniero Non lo sapevo Va bene Ragazzi E Ci sono merci Ancora io adesso non saprei Se prendermi Riverrun o no A me sinceramente Farebbe piacere Il punto è che poi non saprei Chi metterci come governatore Quindi per me Io Riverrun sinceramente Non mi interessa L'unico che voglio È Castel Granito E al massimo Nannisport Questi due sì Ma altri no Quindi io qua rifiuto Vedrò poco che succederà E intanto Mettiamo Dungeon Costoro Anche perché voglio che vi anche un'altra cosa Va bene Un nuovo proprietario Ti immagino che muovo io No Però c'è Daenerys Pia tenno Effettivamente ne serviva perché Ne assumo roccia del drago E forse non ce la fa più con I soldi e tutto Ci sta Io voglio capire una cosa qua però Perché è successo una cosa qua C'è sul fatto di D'abdicazione Non ho ben capito Sinceramente Ma va bene Va bene Va bene così Ok Se il video vi è piaciuto Mettendo un mi piace Commentate Noi ci vediamo Sul prossimo video Ciao ragazzi Ciao